Malamud e cliente fisso Alle dieci e mezza appena entrate per il turno del pranzo, le due cameriere avevano appreso la triste notizia da Mr. Mollendorf e per il resto della giornata ebbero gli occhi rossi e gonfi di pianto. Dopo pranzo, quando tutto si fa più lento, si sedettero sulla panca di fronte allo specchio, sul retro del ristorante, e si misero a fissare i tavoli vuoti di Elaine, poi ripresero a piangere. Alle quattro, quando le due ragazze del turno di cena ebbero appeso impermeabile e ombrello e si furono cambiate e sistemate, Gressy e Clara glielo dissero e scoppiarono i lacrime tutte e quattro insieme. Aveva solo ventotto anni, si lamentò Mary, e i singhiozzi si fecero più forti, mentre le ragazze si videro a Elaine morta in un letto d'ospedale dopo l'intervento alla Cistifellea. Alle quattro e un quarto, Mr. Mollendorf, cuoco e proprietario del ristorante, uscì dalla cucina in grembiale e cappello da chef e chiese alle ragazze per favore di controllarsi e apparecchiare i tavoli per la cena. Certo era una tragedia, ma questo era un luogo di lavoro che dava da vivere a tutti quanti e non era bello che i clienti venissero serviti da una schiera di ragazze in lacrime. Nel voltarsi per rientrare in cucina, qualcosa balenò alla mente di Mr. Mollendorf, che domandò «Chi di voi, ragazze, vuol servire l'angolo di Elaine stasera?» Nessuna apri bocca. La sola idea le terrorizzò. «Chi comincia stasera può poi continuare d'ora in avanti», aggiunse Mr. Mollendorf. Nessuna gli rispose. Sapevano tutte che l'angolo di Elaine era il migliore del ristorante, dove ci si faceva almeno un dollaro in più di mancia per sera. Ma nessuna parlò. «Beh, perché non tu, Gracie? Eri la sua migliore amica», disse il proprietario. «No, la prego, Mr. Mollendorf. No, davvero, proprio non posso». «Clara, ti guadagneresti qualcosa in più?» «No, grazie, Mr. Mollendorf». «Mary?» «No, davvero». «Esi?» «No, grazie». Mr. Mollendorf scrollò le spalle. «In tal caso, allora, disse, non mi resta che chiamare l'agenzia per prendere una nuova cameriera e darle ai tavoli migliori». Le ragazze, tutte belle e ordinate nelle loro divise bianche e nere, rimasero mute. Sembravano così spaventate che Mr. Mollendorf si sentì male per loro. «Bene, ragazze», aggiunse con tono gentile, «non preoccupatevi. dispiace anche a me». «Era una persona eccezionale, davvero, e aveva solo ventotto anni». Si asciugò un occhio col dorso della mano e gli entrò in cucina. «Non è poi così cattivo», disse Mary. E tutte convennero che Mr. Mollendorf era un brav'uomo. Apparecchiarono i tavoli per la cena. Il pomeriggio trascorse lento e fuori cominciò a piovere più forte. «Piangia anche il cielo», esclamò Mary. «Mi sa che la cena riuscirà male», aggiunse Clara. «Pazienza», esclamò Elsie. «Tanto non ho nessuna voglia di lavorare. Se penso a lei là, morta all'ospedale». «Sapete una cosa?», fece Gressi sottovoce. «Che cosa?» «Il suo cliente fisso». Le ragazze se l'erano dimenticato. D'ormalgrado scoppiarono di nuovo in lacrime. «Quando arriverà, non permetterò che sia servito da una cameriera nuova», disse Gressi alle altre. «Lo farò io». «È vero, Gressi», convenne Clara. «Non possiamo lasciare che glielo dica un estraneo». «No». «Beh, non sarebbe giusto». Alle cinque e mezza arrivò dall'agenzia la nuova ragazza. Teneva il grembiule in una custodia di cartone della tintoria Klein. Mr. Mollendorf disse a Gressi di accompagnarla di sotto a cambiarsi, di darle la lista dei prezzi e mostrarle dove erano le cose. Gressi accompagnò la nuova cameriera, si chiamava Rose, giù agli armadietti. Poi le raccontò di Aylène e dell'intervento. «Mi rincresce sentire una cosa del genere?», disse Rose. «Non mi va di farmi i soldi sulla pelle degli altri». «No, non è bello per nessuno. Tanto meno per me», Gressi le disse del cliente fisso di Aylène. «Quando arriva, ti dispiace se lo servo io?», domandò. «Sai, è una questione personale». «Capisco perfettamente», disse Rose. «Se posso fare qualcosa sono ben contenta». «Grazie». «Uscivano insieme?» «Beh, non proprio, ma sarebbe successo presto. Sono due anni che viene qui ogni sera e si siede al tavolo di Aylène, che sapeva esattamente com'è servirlo. Lui si limita a ordinare la carne. Tutto il resto non cambia. Prima prende una coppa di frutta, poi un passato di piselli con i crostini o una zuppa di verdura. Dipende da quello che c'è quella sera. Poi ordina la carne, ben cotta, con fagiolini e purè di patate. E per finire la torta di mele o di mirtilli, se è la stagione dei mirtilli. E un caffè con doppia razione di panna liquida, perché gli piace macchiato. Aylène sapeva esattamente com'è servirlo, senza che lui dicesse una parola. Chissà come era abituato a lei. Altro che, e come gli piaceva. All'inizio era timido e le parlava poco, ma dopo cinque o sei mesi, lei se l'era quasi conquistato con quel suo sorriso ai modi gentili, e ha cominciato a parlarle. Aylène diceva sempre che era molto intelligente, sapeva tutto di quel che succede nel mondo e della guerra e cose così. «Secondo te ci rimane male?» «Sì», esclamò Grace. «Penso proprio di sì. È per quello che voglio dirglielo io. Sai com'è?» «Lo so bene», esclamò Rose con enfasi. Rose si era cambiata. Adesso indossava anche lei un abito nero con colletto e polsini bianchi e un crembiure bianco. Qualsiasi cliente avrebbe capito che non aveva mai lavorato lì perché aveva le scarpe nere mentre le altre ragazze le avevano bianche. Grace presentò Rose alle ragazze e le mostrò la zona di Aylène. «Lui si siede lì», disse indicando il terzo tavolo lungo la parete. «Lo riconosci subito perché è magro e biondino e legge sempre il World Telegram». «Appena lo vedo ti chiamo», disse Rose. «Va bene». Tornarono alla panca, vicino allo specchio e le ragazze rimasero sedute a chiacchierare sottovoce. Raccontarono a Rose delle storie sulla bontà di Aylène che non si sposò mai perché doveva mantenere la vecchia madre che i due fratelli sposati se ne erano fregati e come fosse buona e bella che non si arrabbiava mai se una ragazza le tagliava la strada entrando in cucina ed era sempre così sorridenti che tutti le volevano bene. Le ragazze guardarono la pioggia che scendeva a rivoli sulle finestre. Il ristorante era vuoto e lo sembrava ancora di più quando osservarono i singoli tavoli apparecchiati così bene composate d'argento e tovaglie e tovaglioli bianchi. All'entrata il cassiere leggeva un libro e le cameriere sedevano sul retro nella penombra pensando a quel che si pensa quando è appena morto qualcuno. A che ora arriva questo tipo? Chiesa Rosa e Gressi mentre prendevano i dolci in cucina. Di solito alle sette e mezza. Rose guardò l'ora. Sono le otto meno dieci. A volte non viene. Magari stasera con tutta questa pioggia non viene neanche disse Grace. Speriamo che arrivi. Quando Grace tornò fuori lo vide che appendeva il cappotto accanto al solito tavolo e sentì un tonfo al cuore. Servì i suoi dolci e catturò lo sguardo di Rose. Rose guardò e lo vide leggere il World Telegram. Sorrisse con un senno di intesa. Le altre cameriere videro lo scambio d'occhiate e l'atmosfera si fece tesa. Grace si sistemò il grembiule e cercò di calmarsi. Decise di non dire niente ma di aspettare che fosse lui a chiedere. Andò al tavolo della zona di Highland e versò un bicchiere d'acqua al cliente che sollevò gli occhi dal giornale. Erano di un azzurrogno lo spento e i capelli erano secchi e radi in cima. Rimase vagamente sorpreso nel vedere Gressi. «Posso ordinare a lei?» «Sì, signore», gliel'avrebbe detto appena lui avesse chiesto dov'era Elaine. Per adesso si teneva pronta. Le ragazze erano ai loro compiti e la guardavano per vedere cosa succedeva. «Bene», continuò il cliente sbregandosi leggermente la guancia con le dita lunghe e ossute. «Di solito prendo una coppa di frutta e il passato di piselli con i colostini. Poi stasera vorrei una bracciola ben cotta, per favore, con fagiolini e purè di patate». Gressi scrisse veloce. «Di solito, come dolce, prendo la torta di mirtilli e un caffè con doppia razione di panna liquida». Lei chiusa il notice e rimase in piedi per un attimo, aspettando che chiedesse di Elaine, ma lui tornò al suo giornale. Gressi era delusa. Lui alza di nuovo lo sguardo. «Oh, c'è qualcosa che non va?» «No, signore». Poi si affrettò in cucina, livida in volto. In cucina due delle ragazze le si fecero intorno. «Gliel'hai detto?» domandò Mary. «No, non ha neanche chiesto dov'era». Mary rimase a bocca aperta. «Oh!» esclamò delusa. «Sono tutti così!» disse Clara con filosofia. «Non sanno se sei viva o morta e non gliene importa niente». «Già!» fece Grace. «Forse pensa che sia la sua serata libera!» suggerì Mary. Grace si illuminò. «Può darsi», disse. «Però sapeva che era di giovedì e oggi è martedì. Sì, ma magari sarà dimenticato. Diggielo subito!» esortò Clara. «Diggielo!» e vediamo cosa risponde. «Giusto! Farò così!» Grace prese il pane e il burro. L'insalata è una coppa di frutta. Posò il cibo sul suo tavolo e lui abbassò il giornale. «Signore!» cominciò. Lui la guardò quasi spaventato. «Poiché lei è un cliente fisso», continuò. «Penso che potrebbe interessarle sapere chi è Elaine, la ragazza che di solito la serve a questo tavolo. Beh, lei... lei ha mancata questa mattina in ospedale per un intervento alla cistifellea». Grace non riuscì a controllarsi. Fece una smorfia e poi le lacrime presero a scenderle lungo le guance. Le altre capirono che gliel'aveva detto. Lui non seppe cosa dire. Digglutì imbarazzato guardando nervosamente gli altri tavoli. «Io... capisco», disse. La voce stranamente incontrollata. «Mi dispiace». Gli occhi ricaldero sul giornale. Grace sbatte le palpebre per cacciare via le lacrime e si premette le labbra. Poi se ne andò via veloce. «Al diavolo», disse a Clara in cucina. «Che vada al diavolo. Spero che gli venga un colpo». «Se lo merita», disse Clara. Grace chiamò Rose. Strappò via il conto del cliente dal proprio notes. «Ecco», disse. «Servilo tu. A me fa venire il volta stomaco». «Gliel'hai detto?», chiese Rose. «Certo che gliel'ho detto. Ma avrei voluto dirgli ben altro». «Sono tutti uguali», disse Clara. La notizia fece il giro delle altre ragazze che cominciarono a guardare il cliente con sguardo sprezzante ogni volta che passavano accanto al suo tavolo con i carrelli pieni. Rose lo servì in modo meccanico. Gli tolse il piatto della frutta e gli sbatté sul tavolo il passato di piselli. Lui parve non accorgersene, d'occhi sempre fissi sul giornale. Le ragazze erano inferocite e si misero a parlare di lui in cucina. «Credevamo che avrebbe almeno mostrato un po' di lealtà», disse Mary. «Non ha chiesto nient'altro?» «No», ha detto soltanto «Capisco, mi dispiace». Con freddezza, senza aggiungere una sola parola. «Vorrei proprio ficcargli questa braciola giù per la gola», disse Rose con violenza. «Anch'io», soggiunse Clara. Uscirono di nuovo, ma non sapevano controllare i loro sguardi. Non passò molto e anche gli altri clienti cominciarono a lanciare occhiate in direzione dell'uomo. Dal viso sprezzante delle cameriere capirono che qualcosa non andava. Una volta lui alzò lo sguardo e vede che tutti lo fissavano. Abbassò subito gli occhi e mentre tagliava la carne, la mano ebbe un fremito. Poi all'improvviso si pulì le labbra e posò il tovagliolo. Prese il conto dal tavolo e afferrò cappello e cappotto dal gancio del muro. Era pallidissimo. Pagò in fretta e furia e se ne andò. Le ragazze rimasero sconvolte. Le restarono in piedi in pietrite e smisero di servire. Quando la porta si chiuse alle spalle dell'uomo raccolsero qualche piatto sporco e corsero in cucina. «Avete visto?» chiese Clara. «Se ne è andato nel bel mezzo della cena». «Deve essersi sentito male per Aylen», disse Mary. «Forse ha capito quel che provavamo per lui», aggiunse Gressi. «No, non penso. Secondo me Mary ha ragione», intervenne Clara. «C'è gente fatta così. Non parlano, ma dentro si rodono». «Chissà», commentò Gressi. «Per l'amor del cielo, ragazze», urlò Mr. Mollendorf. «Questo è un ristorante, non una sala da ballo. Tornate ai vostri tavoli». Il gruppo si sciolse. Si infilarono tutte nel ristorante attraverso la porta uscillante. «Sono sicura», disse Clara a Gressi. «Sono sicurissima che lui l'amava». «Sono sicura». «Sono sicura». «Sono sicura». Grazie a tutti